Nuova notte di lavoro per i topi d'appartamento a Fenza e nuova notte di paura per i proprietari delle abitazioni visitate. La banda che ha agito nella notte fra lunedì e martedì ha preso di mira la zona fra il parco di Vialesi e il parco Zamosa in borgo e l'abitazione vicina al parco Bucci nell'area di San Giuseppe. Non è chiaro se a colpire sia stata la stessa banda che nei giorni scorsi ha commesso furti a Santa Lucia nella zona di Bie Malpighi. Durante i furti dell'ultima notte infatti il modus operandi è stato parzialmente diverso. In un caso particolare denunciato pubblicamente sui social network da una delle vittime i ladri si sono presentati in casa mentre chi vi abita stava dormendo in camera da letto. Nessuno si è accorto di nulla e al loro risveglio i proprietari hanno presentato forte mal di testa e vertigini. Per il resto il copione è invece stato lo stesso. Camera soquadro e diversi danni lasciati alle spalle con finestre e porte forzate. Refurtiva dal valore eseguo ma tanto spavento per chi ha subito il furto.